Il trono classico di uomini e donne non trova proprio pace. Nella registrazione di ieri pomeriggio un'altra tronista ha infatti deciso di concludere in anticipo la sua esperienza nel dating show di Maria De Filippi. Si tratta di Veronica Burchielli, in possesso della poltrona rossa soltanto qualche puntata fa, dopo aver rifilato un sonoro no ad Alessandro Zarino. A dare in anteprima la notizia è stato il vicolo delle news. Nelle ultime registrazioni Veronica aveva infatti comunicato alla De Filippi di pensare ancora ad Alessandro, motivo per cui ha chiesto alla redazione di potersi mettere in contatto con lui al fine di avere un ulteriore chiamento. La produzione del programma ha quindi esaudito la richiesta della Burchielli, circostanza che ha portato all'abbandono prematuro. Nella puntata di ieri, che andrà in onda su Canale 5 soltanto tra qualche settimana, Veronica ha continuato a ribadire il suo pensiero, andando incontro alle ire di Tina Cipollari, e ha chiesto ad Alessandro, presente in studio, se fosse disponibile ad entrare nel parterre dei suoi corteggiatori. Data la risposta negativa di Zarino, la Burchielli ha dunque considerato concluso il suo percorso a uomini e donne, e per capire se fosse possibile incominciare una relazione con lui, ha lasciato la trasmissione in compagnia dell'uomo. Il trono di Veronica è diventato così uno dei più brevi della storia del programma, un epilogo che forse si poteva evitare, visto che l'interesse della ragazza per Alessandro era piuttosto evidente, nonostante il no pronunciato al momento della scelta.